good morning si qui sono diciamo le 10 e come dico in questi casi certo non la mattina prestissima mattinata inoltrata ma comunque mattina mister master maestro o semplicemente semplicemente david lynch it's may 18 2022 and it's wednesday it's a wednesday once again here in naples a clear clear morning in this moment very still right now 84 and 2 fahrenheit around 29 celsius and this means that it's that day really 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 soft like in this day in this period come vedete raddoppiato il rilly perché invece di 4 8 volte perché it's a mese oggi veramente more more a summer climate ed esprime climate fa veramente molto caldo resto andiamo verso giugno insomma si è a sericato di video to us a don't know if a tweet matt ho ancora quello di due giorni fa arretrato da caricare per cui non credo lo farò ma nel caso comunque comunque occhio ai super in fiori interessi anyway asia and you'll just see from the window i think that is after new temperature potrebbe ancora salire robo di sicuro sullo stesso livello ma per me anche salire ovviamente non siamo dei maghi su questo ma credo di sì la tendenza è quella but the really important thing with this atmosphere is that today we have today we have those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful blue skies and golden sunshine and i think all along the way ovviamente all along the way qui come sapete minore rispetto a voi e le vostre parti essendo parlo soprattutto agli amici americani essendo soprattutto essendo un orario diverso questo trend credo sia uno di più lunghi in assoluto tutta la mia storia del report questo trend di sole va avanti da va avanti da sei giorni se non erro per cui bene così speriamo di continuare domani anche così per raggiungere anche un record una settimana io non credo ci sia mai stata totale di sole così bene per cui i said this so from the mythical window with the orange red the blue water curtain and it's green roller shooter behind the me on the top not visible and infactor in the shot and finally from the mythical keyboard amadi gx 640 ipg ipg 625 eva great day in more the people follow the chander rivolsi un saluto davvero a tutti and also i hope you all have a great breakfast io la farò tra poco il mio stomaco brunt era come sempre non so se lo sentite e soprattutto spero che possiate consolarvi con essa qualora il tempo deve essere brutto alle vostre parti rispetto a qui i'll see you in the video toots what do they ma trenting of the video toots of some days ago or two more of